Nonostante il coronavirus continua a creare problemi al nostro paese, ma al mondo intero, Birgi non si ferma e continuano le rotte per altri paesi, italiani ma anche europei. Questo nuovo accordo integra il pannele delle rotte su Trapani. L'Umiwings è una compagnia che abbiamo incontrato tempo fa, prima del lockdown, poi c'è stata una lunghissima trattativa, poi un'interruzione per effetti del lockdown. Ora che stiamo vedendo un po' di luce alla fine del tunnel, hanno programmato le rotte per la Grecia e per Forlì con il rilancio sulla Romania, devo dire, dicevano loro stessi, che ci sono già buoni riscontri per persone che dalla Romania si vogliono spostare, vogliono volare su Trapani, Birgi, credo che le rotte sulla Grecia sono le rotte vincenti, non ce ne sono molte dall'intera Sicilia, noi ne abbiamo tre per tre destinazioni importanti e quindi sono estremamente contento per questo. Altre compagnie che abbiamo sentito in questi giorni stanno predisponendo il nuovo piano voli, pertanto ampliando l'offerta da Trapani e intensificando l'offerta da Trapani. Stiamo attendendo l'incontro perché, come sapete, è stato siglato l'accordo con Ryan per ulteriori rotte su Trapani, dovremmo fare una conferenza stampa entro la fine del mese di marzo per potenziare tutte le rotte a partire da aprile, quindi con l'inizio della nuova stagione e quindi riteniamo credibile che da Trapani nel più breve tempo possibile, cioè per la prossima stagione summer, ci possono essere circa 30 rotte che opereranno sul nostro territorio per portare l'aeroporto di nuovo a numeri intorno al milione di passeggeri entro la fine di quest'anno e riportare a regime l'aeroporto a partire dal 2022. Tutte queste, evidentemente, al netto di eventuali contagi dovuti al Covid. Intanto, come sapete, l'ultimo DPCM prevede la chiusura, la possibilità di non muoversi tra le regioni fino al 27 di marzo, non a caso il 28 comincia la stagione estiva. Mi auguro che il piano vaccini, le azioni che sta facendo il governo, possono portare una riduzione drastica e quindi portarci da zona gialla a zona bianca in modo tale che può partire una stagione quantomeno in sicurezza. Questo è quello che ci auspichiamo per il territorio, per la provincia e per l'economia di questo territorio. Noi stiamo lavorando, non ci siamo fermati, tutto lo staff sta andando avanti e mi pare che questi sono i riscontri che stiamo avendo. Evidentemente non si può forzare le compagnie. Oltremodo, ricordo al settore che in questo momento le compagnie aeree a livello mondiale stanno perdendo oltre un miliardo al giorno. Quindi capite bene cosa significa. Parliamo di numeri veramente importanti. Lo stress che sta subendo il settore dei trasporti non è uno stress mai subito dalla storia, non dico dell'aviazione, ma dalla storia del trasporto ad oggi. Gli aeroporti continuano a perdere numeri da 80-90% in termini di traffico superano l'80% di riduzione di volumi di fatturato nel periodo 2020. Questi sono i numeri che fino a ieri discutevamo in termini di colleghi, quindi di altri aeroporti. Grazie.